Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera siamo qui per affrontare un tema che è il diritto all'identità. Il diritto all'identità è legato anche a quello che succede con la morte e in particolare la morte di persone che appunto oltre ad non avere il diritto all'identità in vita, chi rimane poi deve combattere per restituire loro questo diritto anche dopo. È un tema che è particolarmente importante anche in queste ore, lo vediamo anche nel dibattito legato all'attualità, proprio in queste ore si discute, si fa il confronto tra quello che sta succedendo rispetto al salvataggio dei naufraghi, delle persone che hanno deciso di andare a intraprendere questa missione per vedere il Titanic con tutto il mondo mobilitato per salvarle, e invece il diritto al salvataggio negato ancora una volta ai migranti e nell'ultimo caso il naufragio in Grecia di cui avrete sicuramente sentito parlare. Un paragone, un confronto che ci costringe anche a una riflessione appunto sul diritto perché quello che dovrebbe essere scontato, che dovrebbe essere appunto qualcosa riconosciuto a tutti non lo è. Un tema quindi su cui si riflette attraverso l'attualità, ma si riflette anche attraverso il lavoro di persone come Cristina Cattaneo, poi ne parleremo dopo, che lavora appunto per restituire un nome, per restituire un volto a chi perde questo diritto nel momento della morte. Oltre al lavoro tecnico, oltre al lavoro di informazione, oltre al lavoro nelle istituzioni, e poi ne parleremo successivamente, questo, il dibattito di oggi è anche legato a uno spettacolo, ed è interessante credo anche vedere come l'arte in qualche modo può costringerci a una riflessione su questi temi. Allora chiedo al direttore del piccolo Claudio Longhi, padrone di casa, in questo caso gli chiedo appunto di aiutarci a capire come il teatro, come l'arte, possono arricchire questo dibattito e arricchire la riflessione su questi temi. Grazie. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie di essere qui, così numerosi, per un'occasione a mio giudizio particolarmente importante, perché consente a uno spettacolo di risuonare al di là del momento in cui si consuma in scena e di entrare nella vita delle persone, nella loro quotidianità, attraverso un momento di confronto aperto e su questo tema poi tornerò in chiusura di queste rapidissime riflessioni. Per mille ragioni l'oggetto di questo incontro e l'oggetto di questo spettacolo interrogano strutturalmente il fatto teatrale. Si è parlato di diritto all'identità e cosa meglio del teatro ci può aiutare a riflettere sull'identità dal momento che il teatro strutturalmente gioca con le identità, con le negazioni delle identità, con la cancellazione dell'identità e il recupero dell'identità. Si è parlato di morti in mare, di assenza di sepoltura e è difficile non pensare che uno dei miti fondativi della drammaturgia e quindi del teatro occidentale riguarda per l'appunto la negazione di una sepoltura. Mi riferisco ad Antigone e a tutto quello che ne consegue sul piano di quanto quel mito ci può raccontare. Ma soprattutto c'è un elemento che mi sta particolarmente a cuore. Non so quanti di voi abbiano già assistito allo spettacolo. Spero che chi non lo ha fatto lo possa fare nei prossimi giorni. Entrando in sale, assistendo allo spettacolo, si ha veramente la misura di che cosa sia il teatro. E parlare di spettacolo è anche un termine che in qualche modo mi imbarazza in rapporto all'esperienza che si può consumare assistendo a naufraghi senza volto. Che essenzialmente, e torno per l'appunto a quel confronto da cui sono partito, un momento di condivisione comunitaria, di un tema profondo che ci tocca strutturalmente, che è quello per l'appunto della costruzione dell'identità e del rapporto tra la morte e la vita. E lo fa in un modo politico. Lo fa per l'appunto con una città che si ritrova in uno spazio, che è quello del teatro, e si interroga su ciò che è giusto e non è giusto intorno a una questione che pertiene strettamente quella comunità. Perché non dimentichiamoci che il teatro è un dispositivo che l'uomo si è dato per riflettere intorno ai temi del vivere in comune, alle questioni, ai conflitti, alle lacerazioni che attraversano il vivere in comune. Un'esperienza di questo genere fa bene al teatro perché gli restituisce quella capacità di risonanza, quel suo essere piazza in cui le persone si incontrano, come in questo momento, scambiandosi dei punti di vista. Poi, ciascuno è libero di scegliere il proprio punto di vista. È importante che ci sia un momento di confronto, di dialettica, per trovare la propria posizione. Credo che il teatro questo debba fare, richiamare le persone alla necessità di assumere una prospettiva, assumere uno sguardo. Grazie. Grazie. Pierfrancesco Maiolino che da anni lavora su questo tema e che in particolare a Bruxelles ha lavorato e lottato anche perché in qualche modo la politica riuscisse a rispondere a queste necessità. Tuttavia vediamo, lo seguiamo anche nel dibattito quotidiano, quanto sul tema migranti e sul tema dell'identità, al di là delle parole, la sensazione che si ha che al di là delle parole, al di là delle dichiarazioni di intenti, che poi nella pratica quotidiana non si riesca a mantenere quello standard democratico che l'Europa, di cui l'Europa si fa simbolo, ma che poi effettivamente non riesce a rispondere a questa esigenza. Buonasera a tutti e a tutti, grazie davvero per questa opportunità. Io ci temo molto ad esserci e a portare il mio contributo, anche se sarò in totale contraddizione con quanto sto affermando, perché tra pochi minuti poi mi vedrete scappare via, però volevo esserci per rispondere a questa domanda, insomma evidentemente di senso anche politico più generale, ma innanzitutto per esprimere tutta la mia gratitudine alle persone che sono qui, al piccolo teatro, a chi si è reso protagonista di questo grande lavoro culturale e politico, Naufroghi senza volto, a Cristina Cattaneo, che credo con la sua equip fa un lavoro davvero straordinario, fuori dall'ordinario, purtroppo non sufficientemente assunto come un tema di responsabilità collettiva e istituzionale. E per la verità io al Parlamento europeo ho fatto pochissimo, ho semplicemente, certo abbiamo dovuto lottare per quel piccolo atto, ma semplicemente ottenuto il fatto che la dottoressa Cattaneo potesse nella Commissione Diritti Umani del Parlamento europeo portare la voce di chi questa voce non la ha più, nel modo più, diciamo, emblematico e quindi raccontare la vicenda terribile delle morti nel Mediterraneo ancora una volta, e certo non era la prima volta che questo accadeva, ma forse per la prima volta, anzi certamente per la prima volta, ricordare che vi è una totale sottovalutazione istituzionale, o meglio rimozione istituzionale, in relazione al tema dell'identificazione di chi non c'è più. E forse più che però di questo io mi sono occupato, quando ho fatto l'assessore dei servizi sociali, di accoglienza di chi arriva in questa città, in questi territori, peraltro da poche settimane, anche a livello nazionale nel mio partito, come responsabile nazionale dei temi dell'immigrazione, e vedo qui Milena Santerini, ci sono anche altre Cecilia, altre persone in sala, con cui abbiamo tentato, ciascuna e ciascuno per quello che poteva, in questi anni di cercare di costruire buone pratiche, come si dice con questa terminologia un po' così eccessivamente minimalista, di accoglienza e innanzitutto io credo costruzione di una relazione con persone, sottolineo persone che arrivano per costruirsi un presente, un futuro differente da quello che potevano immaginare nel proprio luogo di origine. In fondo poi al cuore del desiderio di migrare c'è questo, un assolutamente non solo ineluttabile o forse perfino per noi, per la nostra società che invecchia tanto, perfino a un certo punto conveniente sul piano dei macronumeri, ma una, diciamo, assolutamente io credo irriducibile, indiscutibile desiderio, nel senso che proprio non si può mettere in discussione, desiderio di costruirsi itinerari di vita differenti in relazione al luogo da abitare. E tutto questo porta evidentemente alla migrazione, porta al viaggio e visto che nella dimensione attuale geopolitica in relazione alle scelte istituzionali e vengo alla domanda che sono state fatte, non vi è alcuna, se non per pochi, per troppo pochi, alcuna, diciamo, opportunità legale, regolare di ingresso al nostro spazio geopolitico, ciò a cui costringiamo le persone è veramente un viaggio della speranza, come si dice, che spesso diventa un viaggio della disperazione, tanto che il Mediterraneo è, come Naufroghi racconta, sia nella versione, diciamo, letteraria che in quella teatrale, così efficacemente, un incredibile cimitero. Ora, davanti a tutto ciò, è chiaro che noi abbiamo bisogno di una svolta enorme, ma è una svolta enorme che è certamente di politiche, e io non credo che si stia andando nella direzione giusta, lo voglio dire non solo a livello nazionale per le scelte fatte a seguito della tragedia di Cutro dal governo attuale, ma perfino a livello europeo, alludo al patto sull'immigrazione di cui si sta tanto discutendo in queste settimane, che io credo è, se va bene, un'occasione persa. Temo che sarà molto di più. Ma quindi non solo vi è, io credo, una direzione di marcia profondamente sbagliata sul piano delle politiche, ma vi è, io credo, una proprio rimozione sconvolgente di quello che accade, non saprei dirla diversamente. Cioè noi facciamo finta che le persone che perdono la vita nel Mediterraneo o ai bordi della vecchia Europa, per non dire di quelle che la perdono tantissime nelle migrazioni interne allo spazio, diciamo al continente africano, non siano persone, non siano da considerare persone, tant'è che non gli permettiamo nemmeno lo straccio di un'identificazione da morti. E lì c'è il lavoro straordinario che fanno alcuni, tra cui la dottoressa Cattane e la sua equip. Il dire innanzitutto questo, che tra l'altro è una grande questione di riconoscimento, mi viene da dire, ovvio per chi perde la vita, ma tra l'altro è anche una grande questione per i vivi, come abbiamo discusso tante volte, perché è tra l'altro una necessità, perché spesso chi non c'è più è accompagnato o era accompagnato da nuclei familiari che in parte magari ce l'hanno fatta. E a volte avere degli strumenti per riconoscere vuol dire anche al contrario, sapere che c'è chi ce l'ha fatta e che non ha magari perso la vita. Quindi ciò che accade in questa rimozione sconvolgente è poi la produzione di effetti che sono negativi da tutti i punti di vista, dal punto di vista morale ed etico evidentemente, dal punto di vista anche perfino della gestione dei cosiddetti flussi. E quindi questa azione che viene perorata attraverso questa scelta di fondo, io credo che sia ciò di cui c'è bisogno. Certo in questo momento, in questa epoca storica non è facile, perché abbiamo l'impressione tutti che si vada nella direzione opposta, altro che io faccio di mestiere ormai cerco di ridimensionare le illusioni della dottoressa Cattani, nel senso che al Parlamento europeo dicevo sì guarda che sarà difficilissimo, adesso anche prima quasi meccanicamente dico guarda che è durissima, ma non perché voglio contribuire alla crisi depressiva collettiva di questa epoca, ma perché vedo invece tutte le difficoltà nello spazio politico e non solo, anche nell'ambito dell'opinione pubblica, se mi è consentito in grande parte dell'opinione pubblica di affermare questi principi, che sono principi di cui è incredibile anche dover dibattere. Noi abbiamo migliaia di persone che muoiono e che cancelliamo totalmente dal nostro orizzonte. E il paragone a cui tu facevi riferimento sulla vicenda dei soccorsi di questi giorni, raccontato mi pare anche da Sea Watch e da altri in queste ore, è che è il paragone che rende tutto più evidente. Io ovviamente sono stra convinto dell'utilità dei soccorsi e mi auguro che quelle persone ce la facciano, ma c'è un salto gigantesco tra i mezzi che vengono utilizzati per cercare un piccolo gruppo di ricchi e la totale assenza di scelte per salvare un'enorme quantità di poveri e di disperati. E non li riconosciamo, chiudo perché la difficoltà politica, perché c'è così scarsa attenzione, c'è così necessità invece di organizzare l'ostinazione dall'altra sul tema dell'identificazione. Perché noi non li riconosciamo perché il giorno in cui li riconosciamo dobbiamo, e partivo da quello, riconoscerli anche da vivi. Perché se tu non te ne vuoi occupare quando vivono, che è il punto vero, non occuparsene quando vivono, allora se vuoi perseguire questo obiettivo, allora è meglio non guardarli in faccia anche da morti. Ed è questo il punto, però è ciò che rende assolutamente necessario tutto ciò e quindi insomma io sono veramente, Renato, tutti voi qui per non in maniera autorica dimostrare un sentimento di gratitudine da una parte e dall'altra però evidentemente anche nel ribadirvi che grazie al cielo poi c'è qualcuno che ci prova, ci proverà e continueremo a provarci, a portare questa necessità di riconoscere il destino di una persona e di assumersi la responsabilità politica dei comportamenti conseguenti in relazione al destino di chi vuole emigrare. Grazie. Allora chiedo a due donne che nonostante le difficoltà che Maiorino illustrava e che ha raccontato, chiedo a due donne che si sono battute, si battono tutti i giorni perché affinché il diritto all'identità sia riconosciuto e perché la memoria di quello che avviene resti e diventi e continua ad essere parte del dibattito politico. Cristina Cattaneo appunto di cui adesso chiederemo anche del lavoro di questi anni e chiedo anche alla vicepresidente Memoriale della Scià di Milano, Milena Santerini di raggiungerci. Grazie. Cristina Cattaneo, quindi un lavoro che ha tantissimi luoghi dove un lavoro che nasce con il Labanov, ma anche sappiamo ben prima che è diventato poi un libro che è Naufraghi senza volto e poi uno spettacolo. In tutti questi anni tu ci hai aiutato anche in qualche modo a tenere l'attenzione su quello che accade dopo e nei tuoi lavori, nei tuoi scritti emerge sempre come dire anche questo senso di ridare giustizia in qualche modo, di oltre a restituire identità anche restituire giustizia a chi durante la sua vita appunto ha dovuto lasciare la propria casa in fuga dalle guerre, in fuga dalle catastrofi naturali e oltretutto non si vede nel momento della morte riconosciuto un volto. Che cosa ti ha portato anche a fare questo ulteriore passaggio? Perché hai sentito la necessità di fare anche tutto questo lavoro di tipo culturale non solo scientifico. Allora, dunque, che cosa ci ha spinto, che cosa mi ha spinto? Dico sì perché poi io come ricordava giustamente prima anche Maiorino, sono molto fortunata nell'avere un fitto gruppo di giovani che lavora con noi, che ci credono, malgrado appunto la realtà politica sia quella che sono tutti in piedi lì in fondo e che ringrazio sempre tantissimo. Che cosa mi ha fatto fare questo passaggio? Allora il mio mondo è un mondo che è un mondo scientifico quindi la mia prospettiva non è né politica né in quanto medico legale mi occupo di restituire la verità perché come dicevi tu è la verità che viene restituita e la verità vuol dire la verità alla famiglia, a una corte rispetto a un omicidio piuttosto che a una violenza, piuttosto che all'identità. E quindi il lavoro è quello di utilizzare la scienza in questo senso. Poi da 25 anni il Labano fa come missione principale quella che nasce proprio dall'esigenza di dare un'identità e il problema di restituire l'identità che è un problema capito pochissimo a livello socio-politico e fondamentale appunto come si diceva prima, come dicevano prima per i vivi, per chi cerca il figlio, ma proprio per gli atti amministrativi, un orfano minorenne non riesce a essere adottato da l'unica famiglia che può avere da qualche parte se non c'è il certificato di morte di mamma e papà oltre che a tantissime altre cose. Restituire l'identità quindi è un diritto, è fondamentale come medico legale, la prima cosa che fai perché se c'è un morto la prima cosa, il primo comandamento è quello di dargli un nome, un cognome per poter... e quindi da 25 anni noi per questo ci battiamo perché c'è da battersi anche per gli italiani che vivono in margini della società senza identità perché poi i morti sono anche lì di serie A e di serie B e quindi tutto verrà raccontato ovviamente nella versione meravigliosa di Renato e di Laura. Ma perché puoi accanirsi a questo punto quando succedono tutte queste morti del Mediterraneo? Perché oltre a questa esigenza di restituire il dovuto, no? C'è l'identità. C'è un oltraggio, una violazione ulteriore che proprio solo per questi direi non viene fatto questo atto dovuto. Io vorrei aggiungere oltre ai ricchi di cui parlava prima Maiorino c'è anche qualcosa che tu conosci molto bene nella tua realtà degli ultimi, credo, anno forse, che è quella di altre situazioni in cui la gente scappa, la guerra, c'è una guerra in Ucraina e io sono molto sicura anche perché c'è già stata la garanzia da parte di tutti gli organi europei di andare a identificare quei morti in Ucraina delle fosse comuni e già dopo la seconda settimana di guerra c'era chi già si prenotava, passatemi il termine, ma che giù è sacro santo a identificarli nel momento in cui si potrà andare a scavare le fosse comuni. Però sappiamo che sembra quasi una selezione di chi non identificare, che c'entra con forse quanto sono simili a noi o no, mi fa un po' paura pensarlo, però devo ammettere che è così. E quindi la spinta è proprio questa, quella di tentare di, c'è la spinta, è il doppio oltraggio, il doppio schiaffo che ricevono queste persone. E quindi da lì la lotta e il non desistere, mio e del gruppo, ma di gente come chi c'è in questa stanza, Milena, Pier Francesco, ultimamente abbiamo anche assoldato anche Renato e Laura in questa lotta perché è una battaglia da fare su tutti i versanti, forse primo di tutto il versante culturale, per spiegare e spiegare quanto sia una violazione dei diritti umani, quello di privare le persone anche morte di un'identità. Quindi questo è un pochettino la spinta. Quindi un lavoro appunto che ha a che fare anche con le parole, con il linguaggio sicuramente e questo cerchiamo anche io personalmente come giornalista, cerco di farlo, un lavoro che cerco di fare tutti i giorni. Credo che al di là comunque il tema centrale anche che si diceva che è emerso è quello del non riuscire a superare questo blocco mentale, questo cortocircuito mentale che evidentemente ci porta e porta la società a considerare alcune persone prive totalmente di diritti, quindi del diritto alla vita e del diritto anche al riconoscimento dopo la morte e anche a una sorta di cancellazione, come se noi a un certo punto di fronte alle tragedie, ai naufragi, rimuovessimo e questo ha a che fare ovviamente anche, lo diceva anche prima Maiorino, ma lo diceva anche Cattaneo, ha a che fare proprio con questo poi diritto negato. Milena Santerini, il lavoro fatto a livello politico con cercare insomma di porre questo tema alle istituzioni e anche il lavoro fatto per, sempre a livello culturale, comunque tenere in qualche modo questo tema vivo e quindi restituire di memoria anche. Qui ho sentito molte volte stasera la parola rimozione ed è esattamente quella che avrei usato anche io. Evidentemente per la nostra paura, paura di affrontare problemi troppo grandi per noi, paura, diceva Maiorino, di fare i conti con il fatto che possiamo aiutare i vivi e non soltanto dare un nome ai morti. Il lavoro di Cristina Cattaneo in questo è straordinario perché chiaramente ci riporta, tocca una corda molto profonda in noi, quella di non accettare che ci siano corpi senza nome, che ci siano persone che non vengono più cercate, mai cercate e che ci siano soprattutto delle famiglie che le aspettano e che non avranno mai risposta probabilmente. E quindi da questo lavoro straordinario di Cristina chiaramente anche io mi sono fatta interrogare. Quando sono andata a Melilli dove appunto Cristina lavorava al suo nostro di tutti barcone, cioè quello del naufragio del 18 aprile 2015, io ho un po' visto il lavoro molto importante che stavano facendo tutte le università, 10 università riunite, guardia di finanza, carabinieri, prefettura e così via. Il naufragio del 18 aprile 2015 è uno dei grandi naufraggi del nostro tempo insieme a quello del 3 ottobre del 2013, da cui è nata la giornata in memoria delle vittime del mare poi il 18 aprile 2015, aggiungerei purtroppo ora il 26 febbraio 2023, cioè Cutro e qualche giorno fa Pilos ma chissà quanti altri ce ne sono. Questi sono quelli che colpiscono di più la nostra immaginazione per i numeri, tante centinaia, per il fatto che avvengono a poche metri dalla riva e tu pensi ma perché non le hanno aiutati? Come abbiamo fatto a lasciarli andare? Oppure nel caso di Pilos dopo ore di richiesta ai soccorsi. Il lavoro che ho visto a Melilli era un lavoro un po' particolare, molto particolare, perché effettivamente lì è stato fatto uno sforzo anche economico, anche di quelli che sembrano inutili. Tirare su un barcone dal mare, svuotarlo dei corpi e uno a uno trovare degli elementi che avrebbero permesso all'equip di Cristina nel tempo di eventualmente di identificarli. Quindi un lavoro immenso di cui sentiamo non l'inutilità ma quanto sia essenziale è chiaro che spaventa l'idea di farlo per tutti, però sentiamo che questa è la strada, farlo per tutti. E devo dire che lì a Melilli si sentiva tutta la contraddizione perché si vedeva il Mediterraneo con questo sole splendente, questo cielo terzo, questo odore di morti, questo odore di morte e questo contrasto pazzesco tra la vita e appunto queste morti angosciose, perché ricordiamoci che dal punto di vista delle vittime la rotta mediterranea non è l'unica, non è l'unica che crea delle vittime tra i migranti, però probabilmente è la più pericolosa, forse appunto 30.000 morti, 27.000 dice l'organizzazione mondiale delle migrazioni, dipende, ma sicuramente non meno di 20.000 e forse chissà quanti di più. In questo contrasto diciamo si vedeva un po' anche la capacità di Cristina Cattaneo di far unire le persone, di cooperare appunto a un compito impossibile, ma così giusto, di far sentire tutti di fronte a qualche cosa che valeva la pena di fare e questo l'ha fatto anche, se ricordate, con quell'immagine che per qualche mese ha circolato e ha cambiato tanta gente, che è quella del ragazzino molto giovane, probabilmente 14enne, 15enne, che è morto annegato portando con sé la pagella in cui c'erano dei buoni voti, ben cucita con la plastica, tra i vestiti, per poter dimostrare che avrebbe potuto appunto, che era un bravo figlio, che poteva lavorare, che poteva far carriera in occidente. Questo ci ricorda altre morti come quelle dei due ragazzini, Iagine e Fodè, qualcuno lo ricorderà, che sono morti nella carlinga di un aereo qualche anno fa a Bruxelles e avevano con sé una lettera indirizzata ai signori dell'Europa dove chiedevano semplicemente di poter studiare e avevano 15 anni Iagine e Fodè e venivano dalla costa d'Avorio. Quindi un lavoro che sembra contraddittorio, tanta vita, tanta morte e poi il pensiero che guida la rimozione, non abbiamo i soldi per i vivi, figuriamoci per i morti, che non è vero, perché difendere la dignità dei morti vuol dire difendere anche la nostra dignità e probabilmente appunto quello sforzo così grande che è stato fatto per quel barcone forse si può fare veramente in tanti altri modi, se uniti, se consapevoli dell'importanza di questa dignità dell'Europa diciamo così che è in gioco con questa vicenda. Io poi ho provato ad aiutare Cristina appunto con una mozione, con una mozione in Parlamento che è stata votata, è stata approvata e che chiedeva quello che chiede normalmente, chiede il suo lavoro e cioè di facilitare la raccolta dei dati post mortem, di facilitare la raccolta dei dati antemorte, cioè con dei familiari per poter poi abbinare diciamo così i dati che si raccolgono dai cadaveri con quelli di Anna o quello che è dei familiari, familiari che calcolate sono in tutto il mondo, sono nei paesi di origine, sono già emigrati, quindi sono in qualche paese europeo, familiari che stanno aspettando, aspettando, aspettando. Abbiamo chiesto poi di potenziare l'ufficio del commissario delle persone scomparse, tutti stiamo vedendo, meno male, quanto ci stiamo mobilitando per quella bambina peruviana di cinque anni che è scomparso l'altro giorno. C'è una città, c'è un paese intorno a quelle ricerche, meno male, ecco però effettivamente ci diciamo chissà quanti parenti vorrebbero lo stesso sforzo anche per i loro cari. La mozione è stata approvata, sicuramente non è che ha avuto grandi esiti, questo lo dobbiamo dire come Maiorino che i nostri sforzi non sono andati a buon fine, così come non sono andati a buon fine lo sforzo di portare il barcone a Milano, ma Cristina comunque ha creato lo stesso il suo museo, diciamo così, il suo museo dei diritti umani che sapete al Politecnico anche senza barcone e non rinunciamo all'idea di farlo venire perché in questo momento è abbandonato in Sicilia, nessuno lo vede ed è diventato invece un simbolo, è diventato un vero simbolo. E l'altro modo in cui ho provato a aiutare Cristina è stato quello appunto di aiutarlo nella ricerca dei dati, dei familiari. Vorrei chiudere dicendo qualcosa sul memoriale della Shoah perché mi hai chiesto di questo. Io ho contribuito a creare il memoriale e naturalmente molte cose ci fanno pensare a questo, non perché ci sia nulla di paragonabile, nessuno si sogna mai di banalizzare quello che è accaduto, la deportazione tra le due guerre mondiali, la deportazione e lo sterminio degli ebrei d'Europa, nulla a che vedere con i fenomeni che abbiamo adesso che sono di tutt'altro genere, sono fughe per la vita di persone dal sud del mondo, però c'è qualcosa che ci fa pensare e come no? I meccanismi di rifiuto sono gli stessi, i meccanismi di rifiuto sono eterni, sono accaduti allora, ora potrebbero accadere domani, sono quelli per chiudere i muri, quelli per chiudere le frontiere, quelli del respingimento e questo l'ha detto Liliana Segre stesso, me lo ricordavate prima quando ricordava che questo no a chi scappa, a lei è successo in Svizzera, a molti altri è successo ai confini, accade, è accaduto e può accadere ancora. Il memoriale quindi in questo senso è stato uno sforzo come tutto quello che riguarda la memoria ebraica e la memoria anche un po' meno, purtroppo un po' meno, ma ci vorrebbe anche quella di tutti i deportati, i deportati politici, romo, omosessuali e così via. È stato uno sforzo, uno dei tanti modi di dare un nome, di dare memoria, di non dimenticare quei momenti, quindi chi viene al memoriale, probabilmente tutti lo conoscete già, sa che c'è un muro dei nomi. Ecco, quello è lo sforzo di non pensare alla massa dei sei milioni, ma ricordarli uno per uno, che è forse proprio quello che sarebbe importante fare adesso. E poi voglio dire un'altra cosa, un altro meccanismo che è quello della vergogna. Il memoriale è stato fatto così perché in realtà si vergognavano a far vedere ai milanesi che stavano caricando su un camion donne e vecchi bambini e li caricavano poi dopo su dei treni per portarli verso un'unica destinazione. Guardate che per certi aspetti facciamo lo stesso adesso. Pensate agli eufemismi con cui parliamo quando parliamo di migrazioni, quando diciamo paesi terzi sicuri, protezione, cioè sono tutti termini che in realtà nascondono la non volontà di fare qualcosa ma anche in qualche modo la cattiva coscienza dell'Italia e dell'Europa. Noi stiamo usando un linguaggio che nasconde ai nostri occhi stessi, alle nostre coscienze quello che sta accadendo e quello che sta accadendo è che appunto abbiamo quasi 30.000 morti senza nome a cui non stiamo dando un nome. Tra il 2015 e il 2017 noi abbiamo ospitato al memoriale con la collaborazione della comunità di Sant'Egidio quasi 7.500 profughi. In tre anni, due o tre giorni in media, passavano, vi ricorderete, quell'estate di passaggio di flusso tremendo di persone che volevano tra l'altro andare al nord, in Germania, in Olanda, in Danimarca, in Svezia e passando dalla stazione centrale erano proprio un po' dei naufraghi e li abbiamo ospitati, li abbiamo ospitati dentro il memoriale in un'ala del guardaroba e molti non hanno neanche capito dove erano, quasi tutti i musulmani, siriani, afghani, pakistani, eritrei. Dopo molti hanno capito, ci hanno scritto e hanno capito che sono stati ospitati in un luogo di dolore che ricordava tutto un altro momento della storia, però hanno capito che cosa hanno vissuto. Cioè hanno vissuto un'accoglienza gratuita, nessuno gli ha chiesto niente, arrivavano e gli facevamo vedere sulla cartina, tu sei qui e non avevano capito dove erano, dove sono? S'erano in Italia, in Europa e così via. Ecco, allora dico queste cose per dire quanto abbiamo bisogno non solo di memoria ma di un'azione concreta. Io spero che grazie all'ostinazione di Cristina, alla sua forza di convinzione e al nostro aiuto non così, finora non così decisivo, riusciamo a riprendere il tema degli scomparsi e un pochino appunto a convincere le istituzioni italiane ed europee che appunto è una sfida per la nostra dignità. Grazie. Grazie. Grazie anche perché credo che con Cristina e con Catano e con Santelini è venuto fuori anche un tema che in qualche modo ci riporta ai vivi che è anche quello dei crimini, crimini che si parlava ad esempio crimini di guerra, per i crimini di guerra si lavora per appunto per cercare giustizia, per i singoli crimini i bambini scomparsi, piuttosto si lavora e perché allora per chi si trova in difficoltà in mare questo non si fa, non solo per nel momento della morte ma anche nel momento della vita, nel momento del bisogno, quindi nel momento della necessità di soccorso. Io vi ringrazio e chiedo, invito Cecilia Strada che tutti quanti conoscete proprio perché appunto non è solo una questione che riguarda il momento della tragedia, il momento del naufragio, c'è qualcosa che succede prima che nessuno ancora a livello istituzionale definisce crimine ma che sappiamo bene che come dire non ha, non rispetta le regole del diritto internazionale, anche solo di quello che dovrebbe essere la legge che ci siamo dati da come esseri umani. Grazie. C'è che sì che il Mediterraneo è una scena del crimine da molti anni, non è soltanto un cimitero, il cimitero appunto per le persone e per le leggi ma è proprio la scena del crimine ed è questo romanzo nero mediterraneo, se fosse un romanzo sarebbe forse neanche tanto avvincente perché si sa già tutto, tranne i nomi delle vittime, quelli no, però sappiamo i nomi dei mandanti, sappiamo i numeri delle motovedette, di chi fa il lavoro sporco, delle braccia operative della Guardia Costiera Libica, sappiamo i nomi dei mandanti, stanno sulle schede elettorali che abbiamo firmato negli ultimi anni evidentemente e ci sono loro che sono, che quando li incontriamo in mezzo al mare sono, sì, la storia di questo viaggio disperato dall'immigrazione è scritta sulla loro pelle e la medicina legale li vede anche quando sono vivi e la storia che la Libia racconta sulla pelle è una storia molto visibile perché almeno anche nei racconti che ci hanno fatto questo tipo di torture devono essere molto visibili, non è il tipo di tortura che uno si immagina quando pensa ai film sulla guerra fredda, quando torturi l'oppositore non devi lasciare segni perché altrimenti poi finisci nei guai, no, quella è una tortura che la tua famiglia deve vedere i segni nelle foto che gli mandi perché così l'estorsione funziona meglio, così ti manderanno più in fretta i soldi. incontriamo persone che vengono sbranate dai cani degli aguzzini in Libia, incontriamo persone che hanno i segni di sostanzialmente ogni tipo di strumento di tortura, il che ci porta secondo me anche a rispondere alla domanda ma perché questa guerra contro le navi di soccorso, cosa mai potranno fare le navi di soccorso di così inaccettabile per i governi che si sono succeduti? L'invasione? No, perché sappiamo che certo non ci sono numeri di invasione, sappiamo che l'anno scorso sono arrivate via mare in un anno il numero di persone che abbiamo accolto in fuga dall'Ucraina in un mese, quindi sicuramente non sono i numeri dell'invasione, ma anche se fossero, sarebbero le navi di soccorso a portarli? No, perché il 10-12% delle persone che sbarcano arrivano salvate dalle navi di soccorso, gli altri sono sbarchi autonomi, sono la guardia costiera, allora cos'è che facciamo di diverso noi da quello che fa la guardia costiera, da quello che fanno le navi mercantili, quelle che soccorrono, questa roba qua, noi abbiamo il microfono e abbiamo le telecamere e gli aerei di Sea-Watch e le telecamere sulle nostre navi riprendono quello che fa la guardia costiera libica, noi documentiamo i respingimenti, noi documentiamo le manovre pericolosissime con cui cercano di intercettare i barchini di migranti, gli spari contro le barche, lanciare i bastoni, lanciare le catene in acqua per impigliare le eliche, tirar su le persone in modi pericolosissimi, ci sono filmati dove la guardia costiera libica riparte, della gente vola giù e questi pigliano se ne vanno, eccetera. Noi quello che facciamo dopo aver salvato le persone è raccontare, far vedere il materiale che abbiamo raccolto, le documentazioni delle violazioni dei diritti umani, raccontare le loro storie e spiegare lei e Fatima ed era la quarta volta che attraversavo il mar Mediterraneo e per tre volte la guardia costiera libica pagata da noi l'ha riportata agli stupri, eccetera. Io penso che sia questa la cosa obiettivamente inaccettabile per i governi perché se non ci fossimo noi in mezzo al mare ma niente, non si saprebbe niente di queste volazioni, sì certo si saprebbe ogni tanto di questi naufragi che appunto vengono, e io mi ritrovo molto in quello che diceva Milena, non ha senso fare dei paragoni storici, poi diceva Mark Twain la storia non si ripete però fa le rime e qua di rime ce ne sono tante perché questi meccanismi di spersonalizzazione, di togliere all'altro l'identità di essere umano è il prerequisito necessario per poter fare poi di loro quello che vuoi. Non potresti mai accettare di rimandare Giovanna Rossi che guarda chi l'ha visto insieme a me che è una insegnante di liceo, insegna matematica al liceo, non rimanderesti mai Giovanna Rossi allo stupro, non diresti mai, sì certo accetto che le mie tasse oggi vengano usate per riportare Giovanna Rossi agli stupri tutto il mese. Puoi farlo con un individuo che non conosci, puoi farlo con un numero, puoi farlo con qualcuno che non conosci. La prima volta che ho fatto una missione in mare era il 2019, le persone che abbiamo tirato a bordo avevano tutti dei numeri sul braccio e a me questa cosa aveva lanciato in un altro mondo proprio, quando ho realizzato che avevano tutti un numero sul braccio perché i trafficanti avevano segnato il numero da 1 a 100 delle persone, da 1 a 110 in realtà. Poi ne abbiamo trovato 98 perché 6 erano morte la notte prima che li trovassimo e tutti quanti avevano questo numero. E queste donne che ti raccontano che sì certo all'inizio ti stuprono in due magari perché uno ti stupra e l'altro ti punta la pistola, a volte in tre uno ti stupra e uno ti punta la pistola e uno filma perché quella è un'altra arma contro di te perché tu non vorrai mai che quel video finisca la tua famiglia. E uno è maletto però dopo un po' quello che ti punta la pistola non serve più perché comunque cosa vuoi fare? E quando queste donne ti raccontano che sì alla fine ma per forza, per forza perché vuoi mangiare? Vogliono sesso in cambio, vuoi andare in bagno e vogliono sesso in cambio e diventa il prezzo per la sopravvivenza e queste donne hanno solo in mente una cosa, riuscire a uscire vive da quelle celle, riuscire a attraversare quel mare e poi si spera che sia finita e quasi sempre non è finita. Quindi ecco noi iniziamo questa cosa qua, noi cerchiamo di stare in mezzo al mare più possibile per salvare persone possibili ma anche per salvarle non solo dall'acqua per salvarle dalla Libia ma anche per quella cosa lì che diceva Milena perché stiamo salvando noi stessi, stiamo salvando la nostra faccia davanti alla faccia dei nostri nipoti, stiamo salvando la... io non voglio essere guardata come oggi guardiamo chi ha respinto il transatlantico San Luis che portava 937 ebrei in fuga dalle persecuzioni naziste e adesso guardiamo giustamente leggiamo il suo libro di storia che il responsabile canadese dell'immigrazione diceva non possiamo mica accoglierli tutti, tutta l'Europa in America non ci sta e oggi lo guardiamo e oggi con gli occhi della storia diciamo ma brutto stronzo, queste persone, la maggior parte di queste persone non sono più sopravvissute a quello che riportate in Europa, a quella che è stata la guerra, non sono sopravvissute ai campi la maggior parte di queste persone e tu dici tutta l'Europa in America non ci sta, le potevi salvare. Oggi lo giudichiamo così e noi anche finiremo sui libri di storia così. Allora è davvero un salvare noi stessi anche perché è così chiudo. Nel momento in cui accettiamo che la vita umana, la vita umana mia e sua ha un valore, la vita umana di Abdullah e di Fatima non ha lo stesso valore. Nel momento in cui noi accettiamo questa cosa, la accettiamo, sì la accettiamo per lo sfigato di turno, l'ultimo di disgraziati ma in realtà la stiamo accettando per tutti, è il piano inclinato dei diritti. Quando facciamo questo passo qua nessuno è più al sicuro. Quando si perde il valore della vita umana non è solo il mar Mediterraneo centrale, è casa al palocco, è lanciare l'auto contro altre macchine per fare quattro like, è il disprezzo che fa finire le donne ammazzate da uomini che le considerano oggetti e non persone, è il dire se non partivano non morivano ma è il dire se la sono andata a cercare perché erano ubriaca ma magari doveva vestirsi un po' più decentemente e magari non doveva andare in giro di notte la sola, è la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa. E allora se noi accettiamo che qualcuno, che migliaia, che millecento persone almeno quest'anno di quelli che sappiamo sono morti in mezzo al mare, decine di migliaia in questi anni, se accettiamo di continuare a trattare queste vite come vite a perdere che possono finire in fondo al nostro mare, io non mi sento più sicura neanche nelle nostre città perché il mondo che stiamo consegnando ai nostri figli è un mondo davvero di motovedette, di guardia costiera libica e di macchine di lusso lanciate contro le smart per fare quattro like, quindi sono veramente convinta che lo stiamo facendo per gli altri, lo stiamo facendo molto 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 per noi stessi e fin tanto che ce la facciamo continueremo a farlo. prima di lasciarti andare ti chiedo, mi hai mostrato prima una foto perché abbiamo parlato insomma di chi, della restituzione di un nome, abbiamo parlato della restituzione di un'identità, spesso tu come tanti soccorritori come chi decide di impegnarsi in mare salva queste persone e poi ne perde traccia, ma ci sono dei casi, dei momenti e delle storie che poi, delle vite, non sono storie sono vite, di cui uno poi continua a seguire i passi, allora ti chiedo di Fatima. Sì, ieri sera ero, tra l'altro ieri avevo proprio finito di fare un scorre l'elenco degli incidenti di quest'anno e dopo mezz'ora in cui sono tipo ok, 12 marzo 37 persone, 110 chilometri, Norwezi, Benghazi eccetera, e scorre a 14 marzo 5 cadaveri riportati davanti suare eccetera. Dopo mezz'ora di questo lavoro qua, la vita obiettivamente puzza un pochino di morte, però poi dici, vabbè, ovviamente il mio lavoro devo andare avanti. E poi mi è arrivata una foto, appunto, li perdiamo sempre rivista, ma giustamente, come medico quando dimette un paziente dal pronto soccorso, non è che poi rimani in contatto con tutti. E mi è arrivata una foto di Mimi, che era una bambina che non aveva neanche un anno, quando l'abbiamo tirata su dall'acqua il 15 agosto del 2021, adesso c'ha le trecine, sta vicino a Gubbio, sta benone, aveva anche un po' i guai di salute che adesso sono fortunatamente risolti e niente, ovviamente quando ricevi una foto così dici, ragazzi, qualunque fatica ci facciano fare i governi da Minniti a Meloni, qualunque fatica e qualunque veramente, fatica fisica, mentale, incubi, qualunque cosa, la fatica di trovare i soldi enorme, è complicatissimo avere un ave, perfetto, gli insulti, le calunnie, whatever, la foto di Mimi è una roba che ti ripaga di tutta la fatica che tu possa fare in una vita e anche in quella successiva, per cui mondio se le è belle e quindi ecco, diciamo, anche solo per lei va bene così. Tante cose, tante suggestioni e anche tante immagini che sono diventate anche uno spettacolo. Allora chiedo a Renato Sarti e a Laura Curino di raggiungermi e vi chiedo di raccontarci qualcosa di questo spettacolo senza però anticipare troppo, in modo che chi non l'ha ancora visto come me non abbia troppi spoiler. Ma io farò un intervento un pochino meno teatrale e lascio in quel ramo lì a Laura la possibilità di parlare un po' dell'aspetto teatrale, perché, 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 perché le sollecitazioni, le parole che avete detto voi sono importanti e io parto sempre, ogni volta che vengo in questo posto qui vivo un sentimento particolare, perché, perché conosco molto bene, perché avevo intervistato molti anni fa quello che era il proiezionista del cinema a broletto, quando, si chiamava ancora cinema a broletto, prima di diventare piccolo teatro, che mentre faceva, proiettavano il film, sotto, sopra c'erano le torture. E allora ci sono troppe affinità con questa storia, venivano portati alla direzione della Ettore Muti che era qui, andavano sul soffitto, sulla terrazza e poi procedevano, per non farli passare da sotto, per far vedere il tema del nascondere, la vergogna, cambiare i nomi, cambiare i titoli, no? Operazione speciale si chiamava l'eliminazione degli ebrei in Polonia, no? Passavano la terrazza e buttavano dei bigliettini scritti con una matita, un lapis, quello che avevano, sulle cartine delle sigarette, su un biglietto del tram, su un pezzettino di un cartoccio di pane, buttavano di là dove il proiezionista, nei momenti di riposo, usciva perfumare una sigaretta come se i fumi delle proiezioni, dei carboni ardenti non bastassero e prendeva questi bigliettini di nascosto, chi aiutava gli antifascisti, chi aiuta i migranti vengono puniti, ancora oggi no? Sicilia. I familiari, di quelli che partono a volte non dicono che i propri familiari sono partiti perché in Libia hanno paura di rappresaglia, buttavano i bigliettini, lui li raccoglieva e cercava di portarli alle famiglie dove, ce l'ha scritto l'indirizzo ovviamente, l'operazione Nacht & Nabel, Notte e Nebbia, ha lo stesso principio, prima cosa? La sparizione, perché se è terribile sapere che mia moglie, mio fratello, mio figlio, mio parente, un mio amico caro è stato arrestato, possiamo perdere motivazioni politiche o no? Ma so che è trattenuto a San Vittore dopo una denuncia e che fra un po' ci saranno interrogatori, eccetera, eccetera, è una cosa, ma se non so dove sia finito c'è il terrore. Lasciamo perdere i particolari che poi la Muti, gli italiani, i fascisti, oltre ai nazisti, entravano delle notti, all'una, due di notte, sfondando le porte, a volte sette, otto, dieci, tredici persone vestite di nero per rapire una donna, perché era questo il sistema. E allora c'è una sonanza troppo forte, Milena, troppo forte. La sparizione crea il terrore. Se io so che uno è restato è una cosa, se io so che uno è morto è un'altra cosa più tragica della prima, ma una cosa ancora più tragica è la sparizione. In quel caso lì dei nazisti era studiata scientificamente e quindi ci sono delle assonanze tremende, ma tutto quanto perché questo luogo qui, Streller se lo beccavano, lo mettevano al muro. Danilo Dolci era stato alla casa dello studente a Genova, il peggior luogo di torture. Torture. C'è la stessa affinità, c'è la stessa somiglianza. Casa di torture a Genova dove per fortuna riesce a scappare, era il peggior luogo di tortura della Liguria. Ponte Corvo fu restato basaglia. Si è fatto sei mesi di carcere perché distribuiva i volantini contro i fascisti. Perché il fascismo e il nazismo hanno posto in essere le condizioni dell'antifascismo, della nostra libertà, della nostra democrazia e della nostra Costituzione. Tanto aberrante era quel progetto, tanto illustre, prezioso e importante è quella carta costituzionale e il bene che ci è arrivato da queste persone. Ci sono tante affinità. Il binario 21 era sotto, si nascondeva. A proposito di violenza e altra assonanza, in quest'ultimo naufragio parlano che hanno chiuso gli uomini nella stiva, bambini eccetera, nel primo naufragio di cui ho trattato in uno spettacolo Nave Fantasma nel 2005, lì era scomparsa completamente la nave, è andato a fondo? Nessuno sapeva niente, solo dopo quattro anni. Grazie a un giornalista della Repubblica, Giovanni Maria Bello, sono riusciti a rintracciare con delle immagini il barcone. Era lì, nessuno aveva fatto niente, era a cento metri di profondità, facilissimo da trovare. Bene, in quel caso lì sapete come li facevano scendere? Con le pistole, puni e calci, spinte e lancia fiamme, di notte. Lancia fiamme, troppe sono le assonanze, troppe. E guai a dimenticarsi di questo, perché noi siamo qui in un luogo che non è solo un'istituzione culturale, è un'istituzione politica. Streller sapeva alcuni passi della Costituzione a memoria, perché aveva compreso il bene di quel passaggio storico nel nostro paese e lo dico perché siamo in un momento pericoloso, secondo me, perché il giorno del ricordo, fra un poco con tutto il rispetto per coloro che sono stati gettati ignobilmente nelle foibe, ma fra un poco il giorno del ricordo supererà quello della memoria. Non mi ricordo come Vespa ha definito quelli dei deportati ebrei delle fossero datine, li ha definiti in attesa di giudizio. C'è un programma, se andate cinque minuti di Vespa, in cui parla delle fossero datine e del fatto subito dopo. Adesso non mi ricordo il termine, ma in attesa di giudizio, in attesa di trasferimento, come se andare ad Auschwitz, Sobibor, Trebrinca, Bezek fosse un trasferimento, fosse un'attesa di un processo. Ma quale processo? Stiamo scherzando. E quindi questo nel mio teatro c'entra molto, perché per me il teatro ha un significato politico, sempre, anche quando non si vuole, anche quando si parla della famiglia, anche Goldoni è politico, quando Pantalone è vecio, bavoso, in maniera scherzosa, magari ridendo, però perde contro Arlecchino, che lo frega e in qualche maniera Arlecchino vince con l'amore, vince con linguaggio di gioia, di divertimento, e Pantalone, sempre facendo ridere perché Goldoni fa ridere, e Pantalone se la prende in quel posticino lì, anche Goldoni è politico, con la storia delle tragedie greche politiche. Shakespeare è politicissimo, aveva un piccolo problema, che se denunciava i nomi degli allora regnanti donne, non donne, eccetera, la sua testa si la trovava impalata sul ponte vecchio fra quelli che erano ritenuti dissidenti. Quindi prendeva la storia del Macbeth laggiù, perché non poteva parlare del potere in quel momento lì, parlava del relire, un vecchio navigatore, perché non poteva parlare degli imbrogli dello stato di nome e cognome. Noi possiamo parlare male di Berlusconi, si può, noi possiamo parlare male dei nostri politici. Per fortuna la censura non è mai stata una storia approfondita del valore della censura all'interno del teatro, ma il teatro è sempre stato politico, politico nel senso come lo intendiamo noi, umano. Grazie. E grazie a Cristina, naturalmente. Laura Curino, chiedo dello spettacolo. A questo punto qualcosa che ci lasci, come dire, con cui ci lasciamo e ci salutiamo, che per chi non l'ha visto, che cosa in particolare portare in scena questo lavoro della dottoressa Cattaneo vi ha particolarmente, come dire, impegnato e colpito. Allora, intanto devo dire che sempre in occasioni profonde come queste mi sento piccola, pusillanime forse, cioè vorrei avere la competenza e il coraggio, che non ho, di fare di più di quello che faccio. Io adoro fare quello che faccio, che è fare l'attrice, però riesco a mettermi in un organigramma del coraggio. E intanto questo, stare vicino a persone di coraggio, ti aiutano ad averne di più di quanto madre natura te ne abbia dato. Ho sempre pensato che bisognasse avere coraggio, perché ho avuto un padre tornato dai campi di concentramento che per sopravvivere aveva scelto l'oblio, perché tanto tutto quello che aveva vissuto era segnato apertamente sui 14 interventi chirurgici complicati del corpo che questa situazione gli aveva lasciato. Quindi, a partire dal suo silenzio, ho pensato che fosse mio dovere dire tutto ciò che durante ogni notte della sua vita, mio papà ha urlato ogni notte della sua vita, oramai eravamo abituati, la mamma gli diceva che andava tutto bene e via. Quindi tutte, tutte e tutte. Tanto che io non mi sveglio neanche se ci sono le bombe, perché era una tale abitudine. Allora ho pensato che bisognasse fare in modo che questa voce repressa sua potesse essere ascoltata. Quindi, intanto è un onore per me avere un'occasione come questa. È proprio un onore, non so come dire. Non c'è un'altra parola. Sono onorata di poterlo fare io. Poi c'è questa parola bella che abbiamo in italiano, per cui attore, attrice, si dice anche interprete. Quando mi vergogno della mia insipienza, però mi consolo così. dico però sono un'interprete, posso tradurre. E Cristina Cattaneo può venire qua stasera, ma non è che tutte le sere può andare a parlare del suo lavoro, se no non lavora. E così lei, le persone che abbiamo visto. Io come interprete posso ripetere. Allora, forse il senso del lavoro che faccio è del mettere a disposizione il mio corpo per ripetere. Le prove in certe lingue si chiamano ripetizioni. Io ho imparato l'arte del ripetere, del non inciamparmi, del non sentirmi male, a ridire, me lo chiedono spesso, ma come ti senti a dover dire le stesse cose tutte le sere? Bene, benissimo, se le cose che dico hanno un senso. E cerco di non ripeterle uguali. Quindi, sono onorata di questa occasione che mi ha dato Renato Sarti, che mi ha fatto conoscere Cristina Cattaneo, che mi ha fatto essere qui. Perché questo dà un senso profondo alla scelta che ho fatto di fare questo lavoro che per me è il lavoro più bello del mondo. Dopodiché, ed è l'ultima cosa che dirò, è vero che si sente stridore nel parlare di spettacolo. Però, spectacles, in inglese, sono gli occhiali. Allora, forse uno spettacolo in scena sono un paio di occhiali. Cioè, qualcosa che porta un ingrandimento di un momento della realtà. E credo che Renato Sarti, che è un bravo regista, questo lo faccia sempre nei suoi lavori. E come, adesso siamo abituati a zoomare con i nostri telefonini, facessimo, noi in scena facessimo questo. E voglio chiudere così. Così non svelo proprio niente di quello che c'è in scena. Però ho cercato di fare come mi ha detto. Voglio chiudere dicendo che non è semplice fare questo tipo di spettacolo. È più facile se faccio un personaggio. Quanto più sono qualcun altro e quanto più, intanto è superate le prime prove iniziali che sono una cosa che non auguro, è molto divertente. Perché tu puoi essere tutti. Quando ero una ragazzina con gli olenti spessi, mia madre, non so perché, si divertiva proprio a imbruttirmi. Ho delle foto che dico ma mamma, ma perché? Perché mi hai tagliato i capelli così, messo degli occhiali da Peppino di Capri? Ha sei anni. E invece in teatro è magnifico e puoi essere tutti. E se anche sei il più povero della terra e fai la regina, tutti ti credono se la fai bene. È magnifico. Però qui non è così. Non è che puoi fare i personaggi perché ci sono come... Quante volte è tornata la parola persone? Persone, identità, persona. Ecco, se c'è una difficoltà e vi sarò grata di comprenderla che noi abbiamo in scena è proprio quella, sottrarci, metterci al servizio, diventare un paio di occhiali e ricordare fino all'ultimo secondo che stiamo parlando di persone vere. Non che i personaggi del teatro, come giustamente ha detto Renato, non siano verità. ma sono verità. Sotto mentite spoglie. Qui non ci sono le mentite spoglie, ci sono solo, purtroppo, delle spoglie da identificare. Grazie Laura. e io, come dire, spero di riuscire a vedervi presto e sono sicura che è uno spettacolo che è teatro, ma anche quello che abbiamo detto prima, anche di più. È un impegno, è un momento anche di ragionamento e anche di restituzione di giustizia. così come lo è il libro della dottoressa Cattaneo che è edito da Raffaele Cortina e che è un lavoro che sicuramente oltre al racconto di tutto l'impegno tecnico ci costringe anche appunto a una riflessione, la stessa riflessione che abbiamo cercato di fare qui stasera. Io ringrazio tutti e grazie soprattutto alla dottoressa Cattaneo per il suo lavoro. Grazie a Marta Serattini. Grazie a Marta Serattini. Grazie a Marta Serattini.